Che stranezza! Un vitto abbondante e sano, sostituito a un disgustoso vitto irritante, non sostentava Esther. Una vita pura e regolare, divisa fra un moderato lavoro e la ricreazione, sostituita a una vita disordinata, in cui i piaceri erano orridi quanto le pene, annientava la giovane collegiale. Il più dolce riposo, le notti calme, sostituite alle fatiche schiaccianti, alle più crudeli agitazioni, le provocavano una febbre i cui sintomi sfuggivano all'infermiera. Insomma, il bene e la felicità, sostituendosi al male e alla sventura, erano funesti per Esther quanto lo sarebbero state le sue passate miserie per le sue compagne. Ciò che ella odiava rappresentava la vita per lei e ciò che amava la uccideva. Aveva una fede così ardente che la sua devozione rallegrava il cuore. Ma in lei il corpo contrariava l'anima, continuamente. Si narra che alcune carpe furono tolte da uno stagno melmoso e messe in una vasca di marmo, in belle acque limpide, per soddisfare un desiderio di Madame de Maintenon, la quale le nutriva con le briciole della messa reale. Le carpe deperirono. Gli animali possono essere affezionati all'uomo, ma l'uomo non potrà mai comunicar loro la lebra della lusinga. Un cortigiano notò quella muta opposizione nell'interno di Versailles e quella regina inedita rispose «Sono come me, rimpiangono il loro oscuro limo». Spesso Esther rimaneva con gli occhi fissi sul crocifisso e il pianto la vinceva, tutti l'ammiravano. Ma ella piangeva di rabbia, invece delle immagini sacre che voleva vedere, le si paravano dinanzi, scapigliate, furiose, brutali, le immagini delle notti fiammeggianti in cui lei, Esther, dirigeva l'orgia come Habenech dirige al conservatorio una sinfonia di Beethoven. Quelle notti allegre e lascive, intercalate da inestinguibili ilarità, di moti nervosi, esteriormente ella era suave come una vergine che aderisca alla terra solo con la sua forma femminile, interiormente, si agitava come una messalina imperiale. Esther rispose che era felice, che amava moltissimo la compagnia delle sue condiscepole, che non si sentiva minata in alcun organo vitale, che non rimpiegeva nulla, non desiderava nulla. Ma la sua vitalità era essenzialmente compromessa. La superiore, stupita di quelle risposte, non sapeva più che cosa pensare, vedendola in preda a un divorante languore. Quella ragazza perduta era bella come un giglio piegato sullo stelo. Ebbene, cara figliola, disse Carlo Serrera, perché non mi avete mai parlato di Lucien? Vi avevo promesso, e la rispose trasalendo da capo a piedi, quasi convulsamente, vi avevo giurato di non pronunciare mai questo nome. Tuttavia non avete cessato di pensare a lui. In questo, padre, è la mia unica colpa. Penso a lui senza tregua, e quando voi siete entrato stavo pronunciando il suo nome fra me. La sua assenza vi uccide? Per tutta risposta Esther chinò il capo. E se lo rivedeste, disse Errera, sarebbe la vita, rispose Esther. Pensate a lui solo spiritualmente? Padre, l'amore non si suddivide. Figlia della razza maledetta, io ho fatto di tutto per salvarti, ti rendo alla tua sorte. Lo rivedrai. Ma perché ingiurate la mia felicità? Non posso amare Lucien e praticare la virtù, che io amo quanto amo lui? Non sono forse pronta a morire qui, per essa, come sarai pronta a morire per Lucien? Non sto forse morendo per questi due fantasmi? La virtù che mi rendeva degna di lui, è lui che mi ha buttato nelle braccia della virtù. Sì, sono pronta a morire senza rivederlo, pronta a vivere, rivedendolo.